ciao a tutti siamo qui e oggi gioco un po ad angry birds space al quale non ho mai giocato ma ho giocato le versioni la prima versione base normale è finita anche vabbè proviamolo via primo play big cazzo faccio via e bo bellino pianeta forma di ovo boia modelli boia cattivissime ma vaffanculo si li so usate sta di cazzo mori ma puttana finito per cazzo no alleluia no tre porci io un po' come si può finito no ma io ho 10 ore Vabbè 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 Facciamo l'ultimo Come cazzo è questo? Sì Lo posso dire di là? Scusami No Ah 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 Vabbè via Questo era l'ultimo Aspettiamo finisca Maremma maialade Vai No ma lì c'era un oggetto segreto Vabbè Questo per oggi era l'ultimo Perché era per provare Quindi ci vediamo alla prossima E boh Niente Ciao a todos